bella a tutti rango assoluto a mirko e bentornati su gameplay channel e su youtube ers life allora amici continuiamo la nostra serie su youtube ers life quest'oggi faremo un po di cose compreremo anche un sacco di roba continueremo soprattutto a fare tantissimi video a fare tantissimi soldi perché ce ne servono come sapete ben 100.000 per poter cambiare casa e andare appunto nell'ultima location diciamo che offre il gioco vero addirittura una casa nello spazio quindi insomma continueremo a fare un po di cose naturalmente come sempre vi ricordo prima di andare in game mi raccomando un bel po di pollici in su cerchiamo di arrivare almeno a 50 ovviamente iscrivetevi al canale se non siete iscritti condividete con i vostri amici sui vostri social e soprattutto continuate e continuate a commentare tantissimo detto questo amici direi che possiamo passare subito al gameplay bene amici allora rieccoci in game dove c'eravamo fermati l'altra volta dunque qua è arrivato un gioco cacchio adesso non mi ricordo più era questo il walkthrough aspettate un attimo di che gioco era scusa virtual boxing si dovrebbe essere questo quindi allora intanto mandarei le due tipe qua che se la ballano e se la suonano a fare subito i video non su quello ovviamente virtual boxing ok lo devo fare io devo farcelo true quindi allora questa gli facciamo fare dunque qualcosa abbiamo fatto un solo gameplay vai fatti no allora fatti un gameplay su questo vai ok si fallo qua sulla station 1 vai va bene e questa è andata vediamo questa gli facciamo fare anche lei un altro video dunque dunque lei sta facendo a c'è anche questo tra l'altro che è ancora a 100 addirittura facciamoli fare un walkthrough assolutamente su questo vai sulla station 2 ok perfetto è all'ultima dove cacchio è ok vai anche subito subito a fare un video allora lei glielo facciamo fare dunque questo l'ho fatto potrei farglielo fare magari su questo che ho fatto due gameplay ci può stare magari una recensione su questo qua allora la si usa sempre anche tu la station 2 così io vado utilizzare invece la station 3 perfetto allora aspettate qua dove cacchio è vai a fare new gaming video e a sto punto andrà a fare il walkthrough anche qua però mi chiede direttamente il walkthrough in realtà si dovrebbe fare dopo averci fatto un po di gameplay io provo a farlo subito e vado a vedere se me lo dà lo stesso perché qua in questo network come vi ricordate ragazzi non abbiamo uno no no aspetta fermo fermo lì cacchio devo mangiare me l'ho dimenticato in questo network non abbiamo in realtà un minimo di visual non ci richiede delle visual per cui in teoria dovrei poterlo fare sempre mangia ancora dovrei poterlo fare anche così cioè l'importante dovrebbe essere farlo però non ne sono sicuro quindi comunque adesso direi che proviamo e vediamo se effettivamente così abbiamo 72 punti quindi dai direi che possiamo fare ovviamente il video queste qua tutte che smanettano ok a deve finire il video la partner che palle 15 tocca ci tocca aspettare tor caccia la misera finché non hanno finito loro ci tocca aspettare io non posso andare a farlo sopra mi sa di no ok comunque questa ha finito questa porca hey caitlin ma porcaccia miseria mi fai vedere come è andato il video no non me lo fa vedere niente anche se metto in pausa non me lo fa vedere va beh allora facciamolo noi vai vai a fare il video a sto punto perché se no no non posso ancora farlo c'è quell'altra lì che smanetta che due palle però è che non mi fa vedere ok adesso posso farlo vai subito poi a fare il video tanto se io ho un video da fare purtroppo come vedete non possiamo vedere le collaboratrici anche questa è una cosa che secondo me dovrebbero sistemare perché sono diventa un po un problema comunque facciamoci noi il nostro video e chi se ne frega non ho capito perché avevo 72 punti pari invece sono 35 questo sinceramente non l'ho capito ragazzi vabbè comunque facciamolo così lo stesso come viene viene non possiamo fare altro qua mi da pure le carte sbagliate già non ho punti mannaccia la miseria vabbè metti questa da 11 no solo questa qua da sei peraltro col copyright vabbè mettiamogli quella e pazienza vai vedete non non mi fa fare nulla fatto tutte e tre hanno finito il video vabbè andiamo noi intanto a fare il video a sto punto ok vai facciamo l'editing del video al volo così almeno di fare un po in fretta qua come sempre carte schifo sissime vabbè comunque mettiamo così mettiamola così a no vabbè dai sono riuscito comunque a farlo tutto giusto siamo passi nello script tra un po di punti nello script in questo è aumentare ancora un po lo script e basta ok vai processa e te l'interesse però solo al 10 per cento in realtà io provo a pubblicarlo lo stesso e vedo comunque se me la da buona sembra da buona lo stesso tu fammi dare il video beh questi qua sono andati decisamente meglio quindi vai pubblichiamo tutti i video a raffica vai pubblica video e anche tu dove dove cacchio vai stai ferma qua anche lei direi che andato bene pubblica video anche tu vai e sperando che me la dia lo stesso perché vedete in quale in realtà non ci chiede comunque delle view quindi bo in teoria me lo dovrebbe dare lo stesso però vediamo perché l'ha caricato tempo veri ma c'è no infatti vedete ce l'ha dato lo stesso perfetto risolvi allora sì non sarà un video fantastico perché purtroppo aveva un interesse basso comunque lo promuovo uguale vediamo tutti gli altri ma che non è andato benissimo pensavo meglio promuoviamo e promuoviamo anche questo vai promuovi sì strano perché gli altri comunque erano andati me infatti beh questo è andato bene devo dire sono andato decisamente meglio quindi promuoviamo lì tutti ok già che siete qua fare un cacchio subito di corsa a fare altri video che dobbiamo guadagnare un fottile di soldi ci mancano ancora 50 mila per poter cambiare casa ragazzi questo dato adesso aumentato di interesse andare a sfruttare ancora questo ci ho fatto quindi andiamo a farci ancora un altro oltre assolutamente sì vai file walkthrough e tu sei a posto vediamo questa qua che balla come sempre queste ballano sempre che cacchio ci avete da ballare bisogna lavorare mica ballare allora su questo l'ho fatto andiamo a fare su questo quindi facciamo una review che abbiamo fatto due gameplay e ci sta si fammelo sempre no vabbè fammelo una station 2 ok vai e manchi tu vai a fare il video quella al pc che sarà chat da sola dunque abbiamo fatto 12 dire di fare ancora questo facciamo anche su questo l'ultruda che ci sta station 2 si stai sempre sulla station 2 va bene va bene allora tu sei sulla 2 io voglio andare alla 1 andiamo a fare un po di shopping intanto ragazzi così qualcosina comunque la compro tanto vabbè abbiamo quattro video che stanno ci stanno facendo guadagnare altri tre li stanno facendo per cui dai ragazzi dunque come giochi al momento siamo a posto vediamo un po sull'abbigliamento dai che un po che non controllo un po di cos'è so che le avevamo sbloccate aumentando di livello quindi vediamo se c'è magari qualcosa di carino o delle t-shirt e questa poi carina ce la compriamo vediamo vediamo al canottiere va beh direi di no queste già ce l'abbiamo oddio non è che fai quello che devi fare qua abbiamo le cose gotiche vabbè però è più che altro per le feste si sono i costumi white formale beh però noi ce l'abbiamo già in nero quindi direi di no però magari questa felpa qua non è male sportiva ma si dai trovano sportiva si diciamogli di sì all'evento perché qualche evento ragazzi lo dobbiamo fare qua abbiamo le canottiere si non è che vedo altre cose qua i costumi però vediamo sui pantaloni se magari c'è qualcosa abbiamo sbloccato anche un po di livelli ragazzi pantaloni si c'è un bel po di roba però sono tutti i costumi che joal vediamo se c'è qualcosa di formale ma non ne vedo però sì c'è solo questo che compriamo questi ok vediamo sulle scarpe no andiamo sulle scarpe ci sono queste magari comprare queste che sono sempre quelle formali pertanto io c'ho quelle del costume ok occhiali occhiali direi di no abbiamo anche i cappelli ma niente di che gli accessori cosa ci do no vabbè sta roba qua direi di non dai compriamo questi ok intanto ripara il pc un secondo scusate ragazzi che sto a morì la famiglia raccomandato il video vabbè dai non è andato male quindi pubblica lo ok fammi vedere tutta dai fer mannaccia la miseria che è anche questo 37 per cento non è altissimo però comunque pubblica lo fammi vedere il tuo comandato 89 per cento buono assolutamente ottimo così allora abbiamo sbloccato un livello perfetto possiamo sbloccare ancora qualcosa questo sono gli speeder non sarebbe male che star anche non sarebbe male dal tappo 3 anche sbloccare questo che mi dà tra l'altro degli sconti in più però vabbè sblocchiamo lo speeder andare così ragazzi possiamo fare qualche gameplay un po differente allora tu sei qua dunque intanto vai anzi andiamo prima a dormire ma a dormire poi vai a mangiare perché poi dovremmo anche andare all'evento vai dai questo non è andato male quindi dire di promuoverlo fatto adesso ci costa anche di più promuovere i video a livello massimo ci costa 700 però vale comunque la pena farlo ragazzi che ci fanno guadagnare un po di soldini ok vai a dormire vai a mangiare perfetto si può dobbiamo pagare per forza va bene vai anche a mangiare dunque l'evento il 14 quindi dovrebbe essere tra poco invitiamo anche a casa la nostra fidanzata che così almeno intanto che che arriva il momento dell'evento io magari aumenterei anche un po la collaborazione con lei ok regaliamo i fiori poi dobbiamo andare alla presentazione però un regalino glielo facciamo grazie caro va bene dai ma te cambiava così ci cambiamo anche perché tra l'altro abbiamo anche vestiti nuovi da indossare che ancora non gli avevo indossati quindi la giacca avevamo abbiamo detto avevamo comprato vabbè abbiamo già questa che in realtà è già quella formale e ok come pantaloni quali erano adesso non mi ricordo più quali cavolo erano forse erano già questi o erano questi no mi sa che erano questi si erano questi e le scarpe metterei queste ok va bene dai bell'evento che siamo vestiti in modo un po più formale così andiamo l'evento ragazzi come al solito vi salto l'evento e andiamo direttamente alla festa dopo evento ok ragazzi questa va bella fine dell'evento solita cosa solito discorso incomprensibile quindi andiamo subito subito alla festa dopo così vediamo se riusciamo magari a fare un intervista sinceramente la farei vediamo un po il profilo questo è 40 vediamo questa 25 sa qua 42 ma si dava facciamola lui facciamo intanto un'intervista così al volo almeno abbiamo anche un altro video da pubblicare quindi ovviamente vuol dire altri soldi qua mi dà il bonus perfetto si poteva mettergli anche questa in realtà l'ho vista dopo fa niente allora ne mettergli questa ok qua ci dà il bono sul suono quindi mettiamo questa va bene nella mente di questa qua ok questa non posso metterla quindi termine di questo da 4 che ave punti ne ho ancora abbastanza quindi mettiamoli magari questa da 10 ok ne mette di questo da 4 vediamo se si dovrei riuscire ad arrivare alla fine senza grossi problemi abbiamo ancora 18 punti quindi direi assolutamente sì perfetto dai abbiamo anche fatto tutte e dodici le scene next video registrato perfetto allora vai a posare per la stampa ok vai fai due foto perfetto ovviamente anche un po l'esperienza è andamocene a casa sì sì prego prego figurati contento lui che abbiamo fatto le foto per la stampa benissimo venire sono entrato qua sono andati direi tutti bene quindi noi andiamo a spararci subito il video dunque qua no ascolta tirati via che non vedo un cacchio vedete in questo network ragazzi anche se è vero ci fa guadagnare un pochino meno però effettivamente non abbiamo lo stress di partecipare sempre sempre a tutti gli eventi che diventa davvero acqua abbiamo sbloccato anche una carta vabbè la metto dopo abbiamo sempre lo stress di andare a tutti gli eventi invece in questo network devo dire che è decisamente più tranquilla la cosa allora allora dunque potrei mettergli questa va bene poi ne metterli magari aspetta un attimo dunque possiamo mettergli questa ok possiamo andare a mettergli questa e poi a questo punto gli metto l'ultima ok allora siamo un po bassi nello script quindi mettiamo di questo anche qua siamo parecchio bassini ancora questo questo ok vai processa video però è strano che l'intervista ragazzi sono sempre basse come interesse 21 per cento e sì che non era proprio basso lui come ranking però vabbè ok allora vediamo un attimino le tipe intanto andiamo subito a fargli fare dei video perché qua ragazzi siamo a se quasi 70.000 66.000 sembrava un 8 quello lì a questo allo 0 per cento quindi lo eviterei questo ancora un po di interesse quindi potrei fargli fare un altro walkthrough ok no metti così ok vai poi dopo andiamo anche a dare un occhio allo shopping se magari riusciamo a a comprare ancora qualche componente nuova per il per i pc adesso non so se nel frattempo è uscito qualcosa di nuovo ma devo far rifare su questo abbia fatto un solo gameplay su questo quindi vai subito con un altro bel gameplay si fallo così sempre su questa station ok ea te ti faccio fare magari un bel video su questo che al 100 che vai fai un altro gameplay così che magari ci facciamo anche un'intervista vai fallo sulla station 2 ok va bene allora quando intanto a fa dobbiamo risolvere il copyright che non aiuto al network va bene non è andata male comunque l'intervista ragazzi quindi promuoviamo la lo stesso ok poi ne ho anche a fare shopping così vediamo se magari nel frattempo per il pc è uscito qualcosa di nuovo pc world vediamo diamo un occhio perché magari quando aumentiamo di livello di solito escono cose nuove però no al momento dovremmo avere le cose esatto migliori in assoluto se anche qua abbiamo il monitor migliore anche come mouse abbiamo questo anche come webcam non so se poi in realtà comunque dovrà uscire qualcosa di nuovo e non credo però le cuffie sono abbastanza inutili perché comunque come vedete non è che danno nulla water company ave cambiami sta cosa va bene dai compriamoci un paio di cuffie ma se le compriamo va bene anche sull'editing sull'editing qua non avevo l'ultimo programma quindi direi che lo posso comprare ci ha fatto guadagnare ben poco in realtà l'abbiamo promosso spendendo 700 ne abbiamo ricavate solo 547 quindi veramente un po poco quindi ragazzi ci servono soldi vabbè pubblica video dopo andiamo a comprare anche altri giochi perché assolutamente li dobbiamo comprare tu magari vai a fare anche era su questo qua che lei ci sta facendo un gameplay quindi poi tu vai a fare un'intervista si fammelo sulla station 2 va bene mai così almeno non perdiamo tempo ok allora può dire che altre cose non ne devo fare allora la mia ragazza 2 cacchio sparita mi sa che se n'è andata quindi richiamiamola a casa vita a casa dai così eccolo qua così almeno andiamo a parlare ok lei ha fatto il video promuoviamolo comunque ragazzi nella speranza che vada bene che parliamo un po poi direi che possiamo dare un regalo poi riparla ok intanto che loro così si smazzano i video dove cacchio 48 per cento buono dai pubbliche il video assolutamente si abbraccia allora che hai finito fammi vedere comandato 52 dai buono anche questo quindi pubblica anche tu il video così lo promuoviamo che l'abbraccio vai continua a parlare così andiamo aumentare un po anche la relazione ok beh sì questo sta portando parecchi soldini quindi direi che ci può stare vai abbraccia vale un altro regalo e fa un po fatica ea salire questo andato bene studio qua direi che ha dato molto bene quindi vale la pena promuoverlo assolutamente ok flirta vai così magari sale ancora ora di più flirta ancora falle un regalo e poi flirta ancora ok qua i video li stanno caricando tutti lei stava facendo l'ultimo quindi aspettiamo che ricarichi completamente flirta ancora c'è anche bacia vai bacia ok te è finito perfetto ed è raccomandato 76 per cento ottimo ottimo anche questo direi sì il bacio lo danno perfetto va bene vai flirta ancora poi fai un regalo e poi bacia poi direi che magari andrò avanti anche un po off camera far aumentare qua la barra della relazione perché una volta non so perché poi ogni tanto mi scende no non vuole essere baciata è tosta perché sì non sempre ci va bene va bene senti vattene va che mi ha già rotto le balle ok bollese è andata perfetto qua direi che i video li abbiamo promossi tutti quindi ci porteranno un altro bel po di soldini e per cui direi che a questo punto ragazze abbiamo fatto ancora un bel po di cose anche in questo gameplay questo ha portato un k e 8 perfetto new tool blocker ad non lo so sinceramente non diciamogli di no a ok infatti abbiamo fatto bene ok per fortuna siamo poco sotto ragazzi 3 milioni di iscritti quindi ottimo così per cui intanto mettiamo un attimino anche lei a fare qualche altro video così ragazzi sfruttiamo ancora un po i giochi che abbiamo poi ovviamente nel prossimo che prenderemo anche a fare scorta di giochi perché qua come vedete purtroppo iniziamo un po a scarseggiare come tu fai magari un volto su questo si va bene vai fallo così vediamo se 266 qua facciamo a farle fare ancora video a tutte e tre le nostre collaboratrici questo è un po bassino cosa ci abbiamo fatto ma magari una review ci potrebbe stare no grazie per il momento no vai fammelo sulla station 2 vai e vediamo magari te che te la balli va a fare ancora un video Dunque dunque va a fare un altro 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 anche tu su questo è quello con l'interesse maggiore vai fammelo sulla station 4 ok perfetto così almeno mettiamo tutte e tre a fare video almeno non stanno lì a fare un tubo che mi gira le balle vederli a fare niente visto quanto le paghiamo ok ragazzi direi che diamo un'ultima occhiata giusto veloce per vedere come siamo essi siamo comunque primi continuiamo a essere primi al mondo ragazzi con 2 milioni e 8 vedete quello sotto di noi e 2 milioni e 2 Qua 43 milioni di visual noi ne abbiamo 80 81 milioni per cui direi che stiamo andando ragazzi alla grande ovviamente siamo anche primi nel nostro network vedete siamo primi chiaramente anche nel network e quindi direi che ragazzi sta andando alla grande vediamo non appena riusciamo a raggiungere appunto i 100.000 sicuramente andremo nella casa nello spazio così vedremo anche che cosa dovremmo fare dalla luna fare gameplay dalla luna che figata va bene ragazzi quindi mi raccomando vi ricordo come sempre cerchiamo di arrivare almeno a 50 like quindi forza quei pollici in su non scordatevelo mi raccomando perché è importante iscrivete al canale se non siete iscritti condividete con i vostri amici sui social e soprattutto continuate continuate a commentare tantissimo detto questo ragazzi da youtuber life ci salutiamo ci rivecchiamo nel prossimo gameplay ciao belli